Settimana Velica Internazionale 2024, la parola ai protagonisti. Il tuo nome? Sono Fabio, un'aspirante guardia marina dell'Accademia Navale di Livorno. Sono Ludovica, un'aspirante guardia marina dell'Accademia Navale di Livorno. La prima cosa che fai quando sali in barca? Mi confronto con il mio equipaggio. Controllare il vento. La cosa più facile? Scottarsi. Divertirsi. La più difficile? Interpretare il vento. Fare con le mani in mano. Il tuo nodo preferito? Nodo Savoia. Un nodo d'arresto semplice ed efficace. La gas d'amante. Funzionale e non vi tradirà mai. La tua andatura preferita? Gran lasco. Vento in poppa, turboattivo e spinta verso il traguardo. Bolina. Vento in faccia, barca inclinata e tanta adrenalina. Perché la vela? Perché amo lavorare di squadra. Perché ti fa sentire libero. Il più bravo tra voi due. Perché seguirvi? Perché non abbiamo uguali. Perché vi faremo emozionare. Seguiteci.